A Teramo torna sotto la lenda di ingrandimento la ZTL del centro storico, questo dopo che una famiglia terramana si è rivolta all'associazione dei consumatori Robin Hood dopo aver ricevuto circa 200 multe per ingressi all'interno della zona traffico limitato a causa del permesso per diversamente abili scaduto, multe che la famiglia ha collezionato in 90 giorni, ovvero il tempo impiegato per la notifica della prima contravvenzione. Storia infinita perché sono tante storie che non sono mai giunte al termine, rimangono aperte, le problematiche continuano a persistere soprattutto per gli utenti meno fortunati, quindi disabili perché basta dimenticarsi di rinnovare il permesso e arrivano tantissime multe quando le vengono notificate entro i 90 giorni come prevede la legge. Per cui in questo lasso di tempo chiaramente una ne prende tante altre, per cui sicuramente bisogna introdurre un correttivo, sicuramente bisogna affrontare tutta la tematica dei rimborsi, la responsabilità della società che gestisce questa ZTL, gli argomenti sono tanti. E' per questo che abbiamo chiesto al Comune di Terono di convocare un tavolo tecnico con associazioni di categorie, consumatori, commercianti e artigiani, perché anche lì ci sono delle problematiche, l'amministrazione, l'ufficio competente dell'amministrazione. Questo per cercare quantomeno di fare un punto della situazione dopo questi anni di funzionamento da ZTL, di evitare ricorsi, di evitare queste situazioni così. Come associazione offriamo un servizio gratuito a coloro che hanno il permesso per disabili, se vogliono possono utilizzare la nostra associazione, noi un mese dalla scadenza gli ricorderemo che il permesso scade e quindi gli consentiamo di evitare queste tipologie di problematiche.